Buongiorno e buon lunedì 10 aprile 2023 sia benedetto in nome del Signore e gloria a Dio. Questa mattina siamo ripieni di gioia almeno per quanto mi riguarda sono pieno di gioia perché ancora una volta l'ho detto e lo ripeto Gesù è nel mio cuore e questa sua presenza porta nel mio cuore e in tutto il mio essere una piena soddisfazione mi sento soddisfatto contento e felice quindi è una gioia poter avere Gesù nel cuore se ancora non hai Gesù nel tuo cuore sappi che puoi iniziare adesso basta solamente parlare con Gesù e dirglielo a lui Gesù entra nel mio cuore cambia la mia vita dammi una vita nuova piena di questa gioia di questa speranza e il Signore direttamente esaudirà la tua preghiera perché io ho fatto la stessa cosa non ho fatto altro non ci sono trucchi non c'è inganno non c'è magia non c'è niente c'è solamente dire Signore io ho bisogno del tuo aiuto io ho bisogno di te rivelati nella mia vita entra nel mio cuore e compi l'opera tua questa è la predisposizione perfetta per essere salvato gloria a Dio ora vogliamo ascoltare la parola del Signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini Stefano pieno di spirito santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio atti degli apostoli capitolo 7 i versetti 55 e 56 il titolo è questo Stefano il primo martire della chiesa gli autori del calendario cristiano il buon seme consigliano una lettura atti degli apostoli dal capitolo 6 versetto 5 fino al capitolo 7 versetto 60 è una è una lettura proposta ovviamente perché la meditazione di quello che ora ascolteremo è incentrato su questo testo quindi io ti consiglio di fare una cosa come ho detto già altre volte te lo ripeto magari sei nuovo non lo sai potresti mettere pausa questo video andare a farti questa lettura quindi leggere il testo che ci viene indicato e poi ascoltare la meditazione avrai una comprensione migliore del di questo messaggio detto ciò ora vogliamo ascoltare cosa ci viene proposto come meditazione la comparsa di Stefano nella bibbia è breve ma splendente fin dal primo momento in cui il suo nome viene citato egli è presentato come un uomo di cui si aveva buona testimonianza pieno di fede e di spirito santo e quando l'assemblea di gerusalemme istituì i diaconi affidando a loro un incarico di assistenza quotidiana nella chiesa fu scelto anche Stefano egli era pieno di grazia e di potenza faceva grandi prodigi e segni tra il popolo il suo zelo gli procurò una forte opposizione e il tribunale giudaico lo accusò di pronunciare parole di bestemmia ma i giudici fissando gli occhi su di lui videro il suo volto simile a quello di un angelo nonostante gli avessero concesso di parlare egli non cercò di difendersi rispose semplicemente alle accuse citando l'antico testamento per dimostrare che Gesù Cristo era preannunciato alla fine del suo discorso Stefano accusò i suoi giudici di avere messo a morte il giusto e di non avere osservato la legge promulgata dagli angeli ed essi udendo queste cose fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui ma Stefano pieno di spirito santo fissato gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo il figlio dell'uomo in piede alla destra di Dio allora i suoi giudici gettando grida altissime si avventarono su di lui lo cacciarono da Gerusalemme e lo lapidarono Stefano sempre più simile al suo signore pregò in queste parole in questi termini signore Gesù accoglie il mio spirito poi si inginocchiò e chiese ancora signore non imputare loro questo peccato la sua vita lo lasciò dolcemente si addormentò ci dice il testo biblico si addormentò in pace nonostante stava morendo lapidato si addormentò nella presenza del signore nonostante era lapidato da grosse pietre cosa ci vuole insegnare questa storia ci vuole insegnare che le circostanze che stavano intorno a lui non incidevano sulla sua vita perché lui aveva gli occhi fissi su Cristo Gesù il Signore non aveva distrazioni non aveva inganni non aveva tentazione non aveva non era assolutamente sconcentrato dal suo obiettivo il cielo punto e basta ecco perché le circostanze nonostante avverse non l'hanno potuto minimamente toccare intaccare zero completamente anzi pregò per i suoi carnefici e disse padre perdonali loro perdona loro perché mi stanno uccidendo perdonali quanta fede tu potresti dire anch'io lo penserei però ti posso dire una cosa lo stesso salvatore che aveva Stefano e lo stesso salvatore che abbiamo noi si chiama Gesù lo stesso spirito santo di cui Stefano era ripieno e lo stesso spirito santo di cui noi possiamo essere ripiene lo stesso dio padre che vide Stefano mentre stava per morire e lo stesso dio padre che puoi avere anche tu o che hai già anche tu cosa voglio dirti dove voglio portarti non farti abbattere dalle circostanze ma vinci le circostanze in che modo fisse il tuo sguardo su Cristo Gesù concentrati sul cielo cerca lo spirito santo abbi relazione con dio padre e tutte le circostanze avverse che siano pericolose pesanti difficile non ti potranno intaccare minimamente perché perché non potrai distrarti dalla meraviglia alla quale i tuoi occhi saranno fisse non puoi distrarti non puoi distrarti perché la gloria di dio è molto più forte di tutto quello che tu puoi passare in questo momento sii forte confida nel signore e abbia il tuo sguardo fisso su colui che crea la fede e la rende perfetta dio ti fortifichi dall'alto e possa il signore operare nel tuo cuore per farti realizzare che lui le circostanze le tue circostanze le vede in maniera diversa il signore ti benedica pace di gesù non 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 Grazie a tutti.